Come aumentare gli fps su Sunsoft Forest anche se è ottimizzato un po' maluscio però possiamo direttamente aumentare gli fps grazie al pannello GeForce Experience da qui noi possiamo impostare la grafica come vogliamo ad esempio si ottimizza per le prestazioni oppure per la qualità io metto tutto su prestazioni e come potete vedere in basso a destra c'è scritto ultra bassa schermo intero e tutte le ombre, nuvole, erba, tutto basso alcune invece anche disattivate quindi vado su questa chiave inglese, faccio applica, ho applicato così tutte queste impostazioni grafiche e come puoi vedere il soft forest è cambiato, gli fps sono un po' aumentati sopra i 60-70 perché sto giocando in full HD quindi 1920x1080 e come puoi vedere il gioco si vede abbastanza bene ma se io voglio cambiare a risoluzione basta che vado su schermo su gioco, su schermo e da 1920x1080 metto 1600x900 e possiamo anche aumentare e renderizzare così la grafica attraverso un altro pannello di Nvidia quindi se io adesso vado su impostazioni di Nvidia, ci ho fatto un tutorial 4 giorni fa su come cambiare un po' la grafica anche attraverso questo pannello di controllo di Nvidia di AMD non chiedetemi come perché questo è un tutorial per Nvidia quindi impostazioni programma come puoi vedere io nel video precedente ho messo questo soft forest, il percorso file del gioco e da qui ho impostato così il gioco, quindi sui fotogrammi, sul filtro della struttura ho fatto tutta questa modifica tutte le modifiche che mi ha consigliato Nvidia se vado invece su fotogrammi dove sta frequenza fotogrammi massimo e disattivato io metto un attimo attivato ne metto che ne so 1000, facciamo 1000 fotogrammi pre renderizzati 1 e su frequenza fotogrammi massimo applicazione io vado su attivata e metto 200 metto 200 e base e faccio applica e vado sul gioco e vediamo un po' quanti fps riesca a fare quindi rieccoci qua sempre sul gioco superiamo i 70 fps con la risoluzione 1600x900 appena apro l'inventario arriva a 90 fps di notte invece gli 80 fps pure ci arriva gli 80 fps pure ci arriva con la luce è sempre sui 78-79 80 fps anche quindi più di così ragazzi da 35-40-80 è un grande passo ok? è un grande passo perché quando ho iniziato a giocare facevo 32 fps e quando si caricava sul disco arrivavo a 27 fps quindi se voi avete il gioco su un ssd buono se invece avete un gioco su un hard disk comincerà a bloccarsi i caricamenti e comincerà anche a laggare quindi vi consiglio un ssd le impostazioni grafiche sono queste e spero tanto di essere stato d'aiuto io ragazzi ho una 1660 super quindi devo godermi il nuovo autoforest così quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao